Prima di iniziare volevo ringraziare un attimino gli sponsor perché l'anno scorso ho fatto parte di un comitato che ha preparato un'altra conferenza a Parma e lì mi sono reso davvero conto, quando si è seduti dal lato a vedere un talk, però quando prepari una conferenza vedi davvero l'aiuto che ti danno, quindi un grazie davvero sentito da parte mia a tutti gli sponsor senza i quali non potremmo essere qua. E volevo ringraziare anche voi per essere qui, anche se mi avete preoccupato, immaginavo che tutti usaste le pipeline classiche quando siete entrati, però grazie di essere qui perché ne parlavo proprio prima con gli altri speaker, nel mondo dell'informatica adesso c'è davvero bisogno di gente che si interessa e che impara cose nuove e il fatto che siete qui vuol dire che voi siete queste persone, siete persone che vi interessate e che volete imparare e crescere, oppure state cercando clienti ma in ogni caso grazie. Prima di affrontare l'argomento e di fare una piccola demo tecnica cercherò di essere abbastanza breve per poi magari dare più spazio alle discussioni che potrebbero essere, sorgere magari interessanti. Prima di parlare vi faccio un piccolo, un po' di storia su di me e su che cose che mi ha portato a fare questa presentazione con questo titolo e ovviamente che cos'è che mi ha portato a fare il lavoro che ci sta dietro, che non è, come imparerete, un gran lavoro, non è che sia davvero molto faticoso, però nel contesto in cui è stato fatto è sembrato davvero una cosa interessante. Io inizio a lavorare nel 2006 e sono quasi 18 anni e sembra quasi incredibile che ci siano già passati 18 anni. Lavoro e studio e negli anni in Israele nel 2013 conosco uno Scrum Master che mi ha fatto appassionare al mondo agile e da lì ho cominciato a studiare, a imparare tutto quello che potevo assorbire, purtroppo nell'azienda in cui ero non ero in grado di applicare e quindi ho fatto un salto. Al primo salto scopro anche DevOps e mi rendo conto di tutto quello che significa il ottimizzare i processi, utilizzare gli strumenti per lavorare sempre meglio e non solo il DevOps come inteso adesso dall'industria. Nel 2017, appunto per questa passione che ho, vado a presentare la mia prima conferenza a portare quello che ho imparato e scopro gente nuova e negli anni, nel 2020, assieme qua o qua o a Parma, non mi ricordo, ad una conferenza scopro le pipeline YAML, avevano appena implementato nel 2019, avevano appena furbi e confondendo molto la gente, però hanno fatto un ottimo cambiamento di nome con Azure DevOps da un punto di vista di marketing. Faccio vari cambi di lavoro nel frattempo tra uno e l'altro, imparo sempre cose nuove, nel vecchio lavoro assieme a un altro amico imparo sempre di più e queste pipeline mi appassionano sempre di più. Aveva fatto tutta una pipeline di rilascio che era davvero corposa, che faceva rilasciare Octopus Deploy, però era tutto orchestrato, prendendo spunto da Kubernetes, orchestrava la pipeline con i vari stadi di test, di rilascio in test, di rilascio in stage e via discorrendo. E poi la vita mi porta a lavorare per CGN nel 2023 e ora siamo nel 2024, l'anno scorso finisco a lavorare in CGN come sviluppatore su Kermaster, come avete sentito. Vi faccio un piccolo cappello su come CGN, perché CGN è un'azienda interessante e ci sta molto bene per capire una parte importante del perché ho fatto questa presentazione. CGN è un'azienda che entri dentro e capisci che ha una cultura differente. In Friuli Venezia Giulia è molto rara, probabilmente in zone come Roma, Milano, più portate allo sviluppo software dove c'è più cultura, si trova più spesso, però in Friuli Venezia Giulia è molto rara, molto comune la manufatturiera, molto rara lo sviluppo software. Quindi entri in questa azienda e vedi che ha una cultura di continuous improvement, è una cultura che sta molto attenti alle persone, sta molto attenti alla crescita personale, ai rapporti interpersonali. Hanno adottato Scrum, non hanno ancora capito bene cos'è il DevOps, però hanno adottato Scrum, i team sono tenuti a spendere il 30% del loro tempo a miglioramento continuo. Quindi un giorno e mezzo alla settimana devono spenderlo sul miglioramento continuo, che decide il team. E quindi tecnologicamente anche molto avanzati, ho visto cose interessanti. Capirete quindi che la mia passione per queste pipeline e per ottimizzare tutto il flusso di rilascio arrivo in questo posto idilliaco e mi trovo un progetto con varie decine di pipeline. e dico, ma perché? Ma cos'è sta? Adesso non le conto, però vedete, sono varie decine di pipeline per versioni differenti. Ogni anno c'è una versione nuova del progetto e quattro pipeline differenti per ogni anno, sono varie decine di pipeline. Allora vado a indagare perché e vedo che sono tutte pipeline classiche. Comincio a mettermi le mani, tutti i capelli grigi sono per quello. Allora vado ad indagare, scopro che hanno le pipeline classiche. Indago ancora di più e scopro che oltre ad avere le pipeline classiche, oltre ad avere questa immensità di pipeline che creerà dei problemi quando devi fare manutenzione. La manutenzione non è tantissima, però quando devi fare manutenzione per tutti loro ovviamente ti crea dei problemi e devi pianificarlo bene perché non ti affetti molto lo sviluppo. Quindi scopro un'altra cosa che mi ha davvero sorpreso. Il versionamento era manuale. Ogni volta che veniva rilasciato dalla pipeline di release, chi rilasciava andava a cambiare a manina la versione su tutte le altre pipeline in modo che le versioni fossero tutte alleneate. E questo è stato in realtà una buona fortuna per me perché sono riuscito a vendere e grazie all'automizzazione del versionamento sono riuscito a vendere il passaggio delle pipeline classiche alle pipeline YAML. Ah, dimenticavo ancora una cosa. In realtà c'è una ragione per cui loro sono ancora sulle pipeline classiche. È in atto un processo di migrazione verso OpenShift con Docker e quindi spendevano poco tempo a altri tipi di manutenzioni che magari potrebbero portare via a quella migrazione. Però quel progetto, visto che c'è una marea di progetti da convertire e gente che deve studiarsi, OpenShift, Docker, quel progetto è lungo vari anni. Quindi ho detto dobbiamo fare qualcosa nel breve termine, devo fare qualcosa nel breve termine, non potevo lasciare una situazione del genere. Voi vi chiederete ma perché? Perché non lasciare stare così? Che importa? I motivi sono, qua ce ne sono quattro, vi porterò un paio di esempi su quelli che sentivo io principali. Prima e soprattutto la mancanza di controllo di versione. In ordine, poi non è proprio il primo, ma il primo e soprattutto è quello sotto che include tutti. Però mancanza di controllo di versione. Quando voi nelle pipeline classiche, chi le conosce, va a cambiare una versione, a parte che solo alcune persone possono cambiare la pipeline, solo alcune persone possono modificare la pipeline, dipende molto dalle logiche, dalle policy aziendali, però normalmente viene restritto un limitato numero di persone, chi può modificarle perché appunto potrebbe fare dei danni, e non si sa che cosa ha fatto, o si può perdere. Non sempre le pipeline classiche ti permettono di fare un cambiamento senza mettere commento su che cosa hai cambiato. Quindi se qualcosa è cambiato, devi andare a cercare uno alla volta in un'interfaccia grafica, qual'era la modifica che magari ti ha rovinato la build per un caso particolare della tua versione. Non è possibile riutilizzare pezzi di pipeline, non è possibile prendere un pezzo della pipeline classica e riutilizzarla. Quindi ti trovi che quel progetto che aveva decine di pipeline, tutte le pipeline erano uguali. Quindi, come ci è successo, è scaduto, è stato deprecato un task, Nougat Restore mi pare, è stato deprecato un task, e abbiamo dovuto a manina andare a cambiare tutte le pipeline. Perché? Perché non è possibile riutilizzare pezzi di pipeline classiche. Ovviamente questo non è che porta grosso tempo di lavoro a lungo andare, però è un rischio che è meglio evitare. Le pipeline di build sono solitamente pensate per avere build e rilascio separati. Si può fare anche il rilascio nella pipeline di build, però sono pensate per fare pipeline di build e pipeline di rilascio. Tant'è vero che Azure DevOps presenta una zona in cui ci sono, si gestiscono i rilasci. In CGN abbiamo tuttora un applicativo sviluppato internamente ancora prima del passaggio ad Azure DevOps che si occupa dei rilasci. Quindi la nostra pipeline di build prepara il pacchetto, lo carica in un server come pacchetto Nougat e poi questo applicativo se lo scarica e rilascia. Non è possibile fare cose carine come quella che vi raccontavo all'inizio, in cui hai tutto il rilascio orchestrato nei vari stage da Azure DevOps. E infine, in sostanza, quella che accomuna tutte, non segue un approccio pipeline as code. Quindi ti porta ad avere situazioni in cui, per esempio, hai decine, cinque versioni differenti del tuo applicativo che devono essere compilate in modi leggermente differenti, magari per esigenza di qualche libereria, devi avere delle pipeline dedicate per la versione che stai compilando. Se la pipeline fosse scritta come codice, la pipeline vive nello stesso repository del codice, quindi quando il codice evolve e la pipeline deve evolvere perché è cambiata una libreria che richiede una compilazione un poco differente o molto banalmente si compila, in un caso che ci sta succedendo adesso, si compila, si passa da compilare due progetti web a compilarne uno, se la pipeline fosse scritta, ah mi sono dimenticato di un caso, se la pipeline fosse scritta come codice, semplicemente cambi la pipeline e non devi fare altro, non devi ricordarti di andare a rilasciarla. Perché anche importante, una cosa che ci è successa e che succederà tra poche settimane, noi abbiamo pipeline differenti anche per gli ambienti differenti in cui rilasci. Hai la pipeline classicamente che crea il pacchetto di rilascio per test, quella che crea il pacchetto di rilascio per stage, quella che crea il pacchetto di rilascio per release. Se usi le pipeline classiche in questa struttura, quando modifichi il tuo software e devi cambiare la pipeline per il rilascio, devi ricordarti di cambiare la pipeline per test. Quando pianifichi di rilasciare, quindi di portare le tue modifiche nel branch che andrà in stage, se utilizzi git flow, dovrai ricordarti di cambiare la pipeline anche oltre a fare il commit sul branch che ti interessa, dovrai anche rilasciare, modificare la pipeline sulla quale devi rilasciare e così anche in quella successiva. Quindi c'è anche manutenzione in più, che te la potresti evitare se fosse scritta come codice. Siamo a... bene, quindi partiamo col codice. Non starò tantissimo, penso di mandarele a casa velocemente, per fortuna, così anche vi rilassate. Allora, vedete? Perché vedete così? Dovrebbe essere duplica. Ok, bene. Allora, insomma, io nel tempo libero faccio programmini. Ho preso questo esempio di un programmino stupidino che sta su Azure, ho la mia pipeline, ovviamente ne ho dovuta creare per l'esempio una pipeline tipo classico, anche se la mia mano si rifiutava. Questo faremo una piccola modifica e vedremo che rilascia. Questa è l'ultima versione, non facciamo la modifica adesso, però la conoscete. La pipeline, ve la mostro, è una pipeline di tipo classico, questa qua. Queste sono le altre prove che partiranno e quando faremo le modifiche la vediamo. Non ha niente di esoterico. Ha questo Nougat Restore disattivato, ha un Nougat, ha un Donate Restore, un Build a Solution, Test, che potremmo disattivare per risparmiare tempo. In realtà non ci sono test, quindi male. Però il progetto è fatto in casa, quindi... Niente di esoterico, avete la classica interfaccia che vedete, quindi una volta che io faccio una modifica, lei parte e rilascia. Dove rilascia? Crea un pacchetto, un artefatto, che dovrà essere rilasciato da, come dicevamo, releases. E c'è il release che conoscete, che prende da lì. Questo è giusto per fare un cappello. Allora, come facciamo a migrare? Questa cosa vi scioccherà. Allora, attenti perché è davvero troppo complesso. Come facciamo a migrare questa pipeline? Clicchiamo qua. E la pipeline, vedete questi export to JSON o export to YAML. Voi dovete sapere, e magari lo sapete già, ma mi ripeto, giusto per chi ci guarda da casa, che magari non lo sa, e che non è venuto qua, non si è impegnato a crescere, a migliorare, quindi voi che siete da casa. Le pipeline classiche, quando YAML è stato rilasciato, Microsoft ha deciso di sostituire il motore sotto e di utilizzare il motore, lo stesso motore per le pipeline classiche e per le pipeline YAML. Quindi che voi utilizzate il tool grafico delle pipeline classiche o usiate lo YAML, è la stessa cosa per il motore che poi va a compilare, a eseguire i vari task. I task non sono altro che degli script, dei comandi di script, molto probabilmente PowerShell o Shell in base a che piattaforme utilizzate, ma quando veniamo qua e vediamo questo Donner Restore, questo non è altro che un comando che viene eseguito sulla macchina Donner Restore, ed è il classico Donner Restore che tutti conosciamo per la riga di comando, ma pure questo. E infatti se vedete, se clicchiamo qua, View YAML, lui già ci dice, eh attenzione, questo in realtà è questo comando qua, questo task che è una collezione di script probabilmente con controlli, probabilmente con regole di quali sono gli input che ci si aspetta e una serie di script eseguiti nella macchina, nell'agent in cui viene eseguita la pipeline. Quindi molto semplicemente io asporto questo YAML e questo YAML lo vedremo in un attimo. Me lo sposto, come vedete stavo facendo le prove prima, me lo sposto dove abbiamo il progetto e visto che vogliamo essere un po' puliti, open in explore, se viene qualche dubbio nel frattempo o qualche commento o... hai detto una... alzate pure la mano, non mi... interrompetemi pure, non... pipe... ho scritto bene? ah non vedo bene, no, ci ho messo una T di troppo, pipelines... e lo mettiamo qua. Adesso lo vediamo. Certamente se uno... se uno non ha mai visto le pipeline... qua... anzi no... cosa? zoomare un pochino? zoomiamo un pochino, sì. Il codice... però il codice non ha molto senso, mi sarebbe interessante zoomare qua, e chissà se posso cambiarle velocemente... font... change font size... no, chissà che lista che ci troviamo... riuscite a vedere... si riesce a vedere più o meno la solution explorer? Sì? Bene. Mi sono dimenticato di farlo prima. Allora, aggiungiamo... facciamo le cose pulite... cosa vuoi? Aggiungiamo una cartella... pipeline... e aggiungiamo il nostro item. E così la vediamo. ok... ce l'abbiamo... è un po' zoomare... un po' troppo zoomare... così... si vede? ok, bene, bene, bene. ok, allora... intanto vediamo che... ovviamente a qualcuno che non è abituato si trova la differenza tra questa e... è questa... e magari si preoccupa... soprattutto se chi gestisce le pipeline non è... non è un programmatore ma è qualcuno che... nel fantomatico ruolo di DevOps che alcuni applicano in maniera non propria ed è abituato a cliccare i bottoni per rilasciare le cose. Allora, si trova qua e dice che cosa è tutta questa roba? però... vediamo... anzi, vediamolo di là. Vediamo di là. Questa è la pipeline che ci è stata prodotta. Ci sono delle variabili, ci sono i trigger che i trigger nelle pipeline classiche sono nascosti qua quindi qua già vediamo una differenza dall'interfaccia qua c'è una zona specifica della pipeline dove configurare i trigger qua c'è... è direttamente lì quindi direttamente nella pipeline io decido quando è che parte questa pipeline posso farla partire in PR posso farla partire in particolari branch eccetera eccetera e ci sono dei vari jobs se create una pipeline monostage a mano questi due sono impliciti e non li vedrete vediamo cosa succede se io pubblico questa seppusci anzi andiamo andiamo e vediamo qua allora io con questa voglio fare una pipeline devo ricordarmi di fermare tutte le pipeline che partiranno a manetta solo una questa la possiamo lasciare correre solo una va bene devo essere devo aver fermato devo essere stato furbo aggiungiamo una nuova pipeline nuova pipeline come vedrete lui non vi presenta ehi qua fate le pipeline classiche lui ve le mette piccoline lo zoom così riuscite a vedere che è proprio piccolino use classic editor lui non vuole azure microsoft non vuole promuovere queste se le volete ce le avete infatti quando stavo preparando la presentazione non trovavo dove che si faceva e lo impari devo fare la pipeline classica per mostrarlo e vabbè andiamo di qua e scegliamo qual è il repository sul quale vogliamo applicare la nostra pipeline e su workout lui ha analizzato in questo attimo che io ho cliccato applica una pipeline class YAML con il mio codice lui ha analizzato conoscerete più o meno tutti e ha per casa ha analizzato e mi propone quelli che lui crede che siano le migliori pipeline di default che sono dei template da cui partire se avete progetti complessi non funzioneranno mai probabilmente con il mio che è banaletto dopo un paio di correzioni funziona ma progetti complessi fate starter oppure fate come sto facendo adesso quindi partiamo da un existing una pipeline esistente lui guarda il codice guarda il master posso decidere di farlo in un altro branch guarda il master e mi dice guarda qua hai una pipeline hai due YAML che potrebbero essere delle pipeline non si mette ad indacare se è davvero una pipeline lui trova dei YAML e li proponi diciamo usa questa clicca qua e ci propone questa ma che cosa che voi volevo mostrare perché vi ho portato di qua invece che mostrarvelo nel codice perché se voi avete un po' di dubbi non vi ricordate quali sono gli input di questo task perché sono passato al codice è un casino non capisco era meglio prima cliccate qua e avete la stessa interfaccia grafica che avete di là un po' cambiata magari nascoste certe cose aggiunte altre c'è anche da dire che molte funzionalità nuove vanno a finire solo nelle pipeline YAML quindi è possibile che vi troviate anche delle novità qua posso decidere per esempio di cambiare da dove prendersi il nuget feed facciamo facciamo ah per esempio questa qua è disabilitata io posso abilitarla molto probabilmente qua no non c'è disabilità mai inventare mi aspettavo un enable qua abbiamo scoperto che alcuni task non hanno tutti gli input dichiarati nella interfaccia grafica è fatto apposta ovviamente una cosa da notare è che se avete voglia di scoprire se davvero quell'enable ci sta o non ci sta voi cliccate qui di fianco al nome ve lo mostro anche con questa di fianco al nome del task che state utilizzando torniamo di qua per vedere l'enable cliccate qui e andate sulla documentazione no qui ecco e potete andare sulla documentazione del task quindi sì c'è da imparare a scrivere lo YAML però c'è molto aiuto da parte dell'interfaccia grafica nello scriverlo aiuto che verrà a cadere tra tipo due minuti quando vi mostrerò una cosa interessante però come vedete c'è tutta la documentazione di come utilizzare il task e potete creare i vostri task avete una serie di step che fate spesso o avete bisogno di fare dei test degli unit test di SQL e non trovate un task adatto per lanciare i vostri unit test di SQL quando fate i rilasci è una cosa che potete farvi voi la depositate adesso non l'ho mai fatto quindi non saprei dove puntarvi per depositarla però la depositate in un deposito più particolare e gli dite usa questo task nella tua pipeline quindi già lì vediamo un riutilizzo del codice come siamo oh mamma mia ne ho veloce mancano solo 11 minuti pensavo di tenervi poco parlo troppo bene allora se faccio run la pipeline parte però non funzionerà perché mancano due variabili quindi l'unica accortezza che dovete avere è ricordarvi di aggiungere le variabili che avevate di là name del mostro dov'è l'altra pipeline la pipeline classica andiamo di qua andiamo di là parlo troppo edit qua voi avete una definizione delle variabili da utilizzare noi adesso dall'interno della nostra pipeline utilizziamo queste due quindi gli dobbiamo dire glielo possiamo dire qua a codice quindi name con value build configuration release oppure name build platform non facciamo non facciamo un po' più incolla non facciamo a mano facciamo un po' più incolla value any cpu ok e così la pipeline dovrebbe andare e partire adesso non vi faccio vedere che lei finisce quando finirà finirà e vi faccio vedere una cosa volevo volevo puntualizzare una cosa che secondo me è molto interessante adesso facciamo il pool guardate attenzione ho fatto una modifica adesso quella modifica è su git perché ho modificato del codice quindi viene tracciato il nome il nome non sono stato attento sul nome perché si andava veloce però quando si fa una modifica della pipeline si può anche dargli un nome specifico se vedete commit setup sì questo è quello suo setup series with Azure DevOps ok quello che vi volevo mostrare e penso che farò velocemente prendiamo questi due task io ho questa pipeline che è lunga potrebbe essere molto lunga e lo dico voglio sfruttare il riutilizzo del codice allora facciamo che io prendo questo pezzettino di codice qua e lo tolgo via così la mia pipeline diventerà più carina allora io gli faccio un add facciamo facciamo new item new item di testo sicuramente non mi permette di dargli la posizione quindi store restore.iamo vai e gli metto lui quindi quindi che cosa sto facendo qua sto facendo un template e sono gli steps e qua adesso build solution per semplicità gli diamo direttamente tutto punto solution ma perché me li metti doppi e di qua che cosa faccio gli chiamo e gli dico template due punti restore punto e così ho riutilizzato quel codice voi direte sì ma grazie sta ancora nel nel tuo repository quindi come fai a riutilizzarlo da altre parti se sta comunque nel tuo repository buona domanda voi vedrete che qua io ho un repository che si chiama templates e questo repository template può contenere tutti i template di pipeline che posso utilizzare quindi in questo repository template ho il mio restore di aml con la a che è la stessa cosa ha un parametro in più che è la solution e quindi io lo posso riutilizzare facendo così invece di chiamare questo template baro un attimo e vengo di qua e mi prendo e mi prendo gli sto dicendo per questa pipeline hai bisogno di un paio di risorse tra le risorse ci sono delle risorse tipo repository prendimi questo repository qua glielo dichiaro qua e dopo di che quando lo chiamo gli dico attenzione devi usare il template che sta in nel repository quindi in questo modo qua a parte i tab no meno 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 i tab sui yaml devono imparare ed è qua che vi dicevo che perdete un attimino l'aiutino la parte di dell'interfaccia grafica nel nell'editare lo yaml template perché una volta adesso lo vedremo e spero che prima o poi facciano questa modifica una volta che avrete fatto un template eccolo che è partito speriamo che non mi esploda in demo una volta che avrete fatto un template non avete modo di accedervi per modificarlo ma diciamo che quando decidete che qualcosa diventa template l'avete già provato le modifiche che fate un template non sono probabilmente così grosse onerose da dover richiedere e probabilmente se state facendo già i template vuol dire che avete già un po' più di conoscenza quello che volevo che vi portaste a casa è che non è così siamo nel processo giusto non è così spaventoso passare non ci si mette neanche tanto tempo io ho portato quel progettone con milioni di pipeline ho fatto la modifica in un'ora eravamo a posto dopo abbiamo speso qualche ore negli sprint successivi per fare il passaggio anche a tutti gli altri progetti quindi adesso loro hanno delle pipeline più manutenibili intanto che aspettano che nel 2026 perché questo non lo sapevate questi progetti verranno migrati in in OpenShift appena nel 2026 quindi mancano due anni se non si è disattivato si è disattivato bene finisco tutte le mie presentazioni di DevOps parlando di perché si sta presentando quello perché non sto più grazie ti estendi adesso fa il contrario ok finisco tutte le presentazioni consigliandovi questi quattro libri nel mondo nel mondo di DevOps di questi si sente spesso parlare di questo non tanto ma secondo me è un capolavoro perché viene molto prima di tutti questi e capite che l'obiettivo di un'azienda non è essere più figli essere più bravi e far soldi e bisogna ottimizzare il flusso di lavoro loro parlano nell'ambito manufatturiero però molte delle cose che dice si applicano anche nel nostro ambito abbiamo due minuti due di discussione che speravo di lasciarvi 20 minuti però se ci sono domande che è successo? perché? cosa ho fatto? è passato a un unico aiuto là è tutto a posto? ho fatto per il videogamera ok ecco blu ma che non ho fatto niente aspetta aspetta forse è colpa mia duplica va bene anche quella votate la sessione grazie di nuovo l'isponsor grazie a voi di essere qua se avete domande e discussioni abbiamo un minuto e 40 secondi domande? allora intanto te ne faccio una che è arrivata da chi ci segue in streaming Simone Peruzzo chiede se lo sai perché non si è deciso di mantenere la visualizzazione grafica del file YAML capisco che possa differire da branch a branch ma sarebbe stato utile secondo me non capisco la domanda ok non capisco in quale sì anche se la risposta è chiedetelo a Microsoft dicono dalla giuria purtroppo non sapevo rispondere non avevo neanche capito altre domande? ti hanno convinto a passare le pipeline YAML? sì bene quindi diciamo che domani no domani lunedì appena arrivi un'oretta via poi chiedi per me poi chiedi scusa bom altre domande? perfetto super 30 secondi un applauso a Daniele grazie ancora grazie